ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi parleremo del piccolo isonzo mkm ragazzi questa è la versione clip point versione che non mi ha convinto appieno andiamo a vederlo insieme eccolo qua ragazzi piccolo isonzo mkm maniago knife maker ragazzi prodotto dalla mikita un coltello piccolo un coltello disegnato da jesper voxness che rimane uno dei miei disegnatori progettisti preferiti ragazzi un coltello davvero costruito seguendo la cura per il dettaglio ragazzi questa è la versione con lama come potete vedere clip point era quella che mi interessava provare ragazzi poi vi spiegherò il perché esiste anche la versione con lama cleaver che è quella a sciabola ragazzi tipo quella del crkt pilar che casualmente abbiamo qui eccola lì e l'altra versione con la versione che è la hook bill che è quella con una specie di artiglio ragazzi andatevela a vedere a parole non ve la so spiegare i coltelli sono costruiti anche con diverse combinazioni combinazioni di colore io ho preso questo tutto verde ci sono varie combinazioni anche con lama nera ragazzi il coltello nella sua interezza misura 14.4 centimetri ed ha questa lama ragazzi finitura stonewashed in n690 da qualche parte scritto eccolo lì n690 acciaio con una buona ritenzione del filo ragazzi è un'ottima resistenza alla corrosione il coltello è fatto molto bene assemblato su cartelle in acciaio come potete vedere ve le sto inquadrando che danno molta resistenza a un coltello così piccolo ragazzi cartelle in acciaio affogate come potete vedere nelle guancette in f r n una buona test sulle guancette un buon grip ragazzi si sente che sono fatte bene molto particolari con appunto la m di michita ragazzi molto particolare nella parte posteriore del coltello abbiamo uno dei suoi elementi distintivi che è questo spaziatore ragazzi in alluminio anodizzato verde in questo caso che lascia questo grosso foro in cui potete inserirci il vostro liner il vostro paracord delle cinghie ragazzi un moschettone un coltello insomma pensato anche per chi lo porta in situazioni in cui il coltello serve nell'immediato quindi non averlo in tasca ma averlo magari appeso al moschettone in situazioni operative averlo appeso una fettuccia sul jacket è una buona buona soluzione mi piace grippato quindi non avrete nessun problema di grip o di presa ragazzi con questo coltello il coltello alla clip a filo che sia per destrorsi che si può riposizionare per mancini ragazzi coltello come dicevamo fatto con finiture ragazzi un occhio al dettaglio alto un grado di dettaglio ragazzi una cura del dettaglio veramente alta ragazzi lo possiamo vedere in una cosa intanto passa anche l'elicottero ragazzi per disturbarmi ma non ce la farà una delle cose che mi piace molto che veramente secondo me è proprio il tocco di classe proprio la piccola sferetta che solitamente ragazzi avete in acciaio che è la sferetta che serve a coltello chiuso a non fare aprire la lama prendere quella che tiene la lama in questo caso è una sferettina in ceramica ragazzi quindi in ceramica non in acciaio ceramica che ha un grado di usura ovviamente più lungo rispetto all'acciaio quindi ottima 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 eccola lì ve la faccio vedere bene visto e questi sono dei dettagli non da poco altra cosa che mi piace tanto di questo coltello ragazzi è che il movimento è assicurato da cuscinetti cuscinetti a sfera proprio in ceramica davvero un movimento fluidissimo una volta che lo avete in mano lo aprite lo chiudete ragazzi lo sentite al volo quanto è fluido questo coltello davvero un movimento perfetto ragazzi perfettissimo il coltello ha una lama appunto questa è la versione clip point con la lama più corta ragazzi ed è di 5.4 centimetri con uno spessore di 3.5 millimetri il coltello da chiuso misura solamente 8.8 centimetri ed ha un peso di 70 grammi ragazzi un coltello leggero considerando che è un coltello comunque manicato in acciaio ragazzi vi ricordo vi ricordo che le cartelle sono alleggerite però comunque manicato in acciaio per aumentarne ragazzi la resistenza una cosa che apprezzo veramente molto in una costruzione di un coltello così piccolo ragazzi adesso ragazzi voglio venire con voi a delle cose che invece non mi hanno per nulla convinto di questo coltello ragazzi coltello fatto bene coltello con una cura del dettaglio incredibile però alla fine il coltello io lo devo usare non lo devo solamente guardare diciamo che questo isonzo secondo me la versione parlo solamente di questa versione la clip point che era quella che veramente mi interessava vedere ragazzi perché appunto non mi aveva convinto mentre la versione ragazzi con lama cleaver assomiglia molto al crkt ovviamente sempre disegnato dal signor jesper ragazzi assomiglia molto ragazzi quindi anche nella presa è molto simile al crkt la versione clip point non mi aveva molto convinto per quale motivo perché questi coltelli ragazzi questi coltelli piccoli come diciamo sempre sono da prendere più che alto in presa avanzata perché sennò lo prendete sempre a tre dita e quarto dito vi resta ballerino ragazzi per una presa avanzata qui è stata predisposta questa piccola finger soil come potete vedere ve la faccio vedere a confronto con quella del pillar visto questa è la finger soil del pillar questa è la finger soil del lisonzo ragazzi è veramente troppo troppo piccola è piccola e si si riesce a prendere però il dito proprio vedete va proprio a scontrarsi con l'angolo della lama riesco sia a prendere il coltello a quattro dita però non è veramente il massimo della comodità ragazzi se il coltello lo usate a quattro dita ogni volta che lo prendete vi pungete con la lama ragazzi questa cosa a me non è piaciuta particolarmente ergonomia ragazzi sicuramente vincente sugli altri modelli dove ho visto che la finger soil è molto più larga ragazzi siamo i livelli del pillar ovviamente ma su questo clip point che ho voluto provare secondo me questo è un difetto da sistemare allunghiamo un pelino sta lama e aumentiamo un attimino questa finger soil ragazzi perché è veramente troppo troppo piccola un'altra cosa che secondo me è migliorabile su questo coltello ragazzi ve la faccio vedere subito è proprio questa cosa se guardate il foro della lama come potete vedere è svasato è stato svasato vi faccio vedere quello del pillar un secondo ragazzi eccolo qua quello del pillar è a angolo vivo se ci passo il dito il dito si incastra si impiglia perché è ad angolo vivo lo vedete eccolo lì è angolo vivo quindi adesso non va più a fuoco se è vergognato ok il dito si impiglia e si apre secondo me è il fatto della cura del dettaglio qui è stato un po eccessivo e quindi è sono andati a smussare quest'angolo vivo che non è più vivo se passo sul pilare il dito il pollice non curante la lama si apre ok se invece la passo sul disonzo ok ovvio che si apre ragazzi però comunque non è immediato come un angolo vivo secondo me questo è un particolare che bisogna rivedere qua bisogna tagliare ad angolo vivo e non smussare ragazzi ripeto è un coltello che costa 100 euro ragazzi un coltello che costa 100 euro di questa dimensione secondo me non deve avere assolutamente difetti questa versione clip point secondo me li ha anche perché se andiamo a vedere un suo concorrente che costa praticamente un terzo ragazzi ha un ergonomia un ergonomia allucinante ragazzi un ergonomia incredibile incredibile costa un terzo ragazzi certo le materie prime non è cartellato e soprattutto la lama è in house 8 ragazzi però parliamoci chiaro con un coltello così piccolo non ci andate a tagliare a metà l'astronave madre e l'enterprise ragazzi è un coltello piccolo quindi ci potete fare i compiti che a lui competono e il discorso è va bene le materie prime ma 100 euro per un coltello che secondo me non ha l'ergonomia davvero di un coltello che costa un terzo se vogliamo prendere il pillar che è un coltello che costa poco poco meno della metà ragazzi con ergonomia super efficaci davvero non capisco il nostro signor jesper cosa ha pensato quando ha disegnato questa versione clip point del lisonzo ragazzi ripeto una versione che a me non convince le altre due versioni mi piacciono ho preso questa proprio perché non mi convinceva ragazzi ottimo veramente il jimping sulla lama ottimo tutto jimping posteriore ma quei difetti che ho detto secondo me ci sono quindi cura del dettaglio alta ma sicuramente un coltello da migliorare andiamo alle conclusioni finali isonzo mkm ragazzi prodotto da mikita questo coltello con un altissima cura del dettaglio ragazzi dettagli veramente stratosferici su un coltello però secondo me veramente migliorabile ragazzi dal piccolo isonzo dal parchetto del tagliagole tutto buona giornata e ciao